Benvenuti a tutti da PuntoSteamPunto a questo nuovo video. Oggi voglio annunciarvi, come promesso, il famigerato ritorno del poker, sul come e quando giocare i giochi d'azzardo e come proteggersi dal blocco room, oltre al blocco scambio che ha bloccato mezza abbo.it. In queste ultime due settimane, per chi ha seguito anche qualche live sul canale già lo saprà, sono riuscito a ricreare il poker. Non il banale dado, ma il vero e proprio poker, a 5 dadi, HC ovviamente. Certo, non voglio negarlo, più di 3 dadi per stanza non si possono girare, ma non vi sto prendendo in giro, ho semplicemente trovato un escamotage. Se più di 3 dadi non si possono girare, non significa che essi per forza non debbano poter essere posati in stanza. Già aperti, giusto? Bene. Prendete dunque 60 dadi HC, un bel po' di wired e un folle con un'idea malsana come la mia, e puff, eccovi apparire il primo poker wired con dadi HC della storia di abbo.it. Il suo funzionamento è banale, dovrete semplicemente premere delle leve. 5 leve per ogni giocatore. Al click di ogni leva, i dadi appariranno. Un dado per leva, insomma, come potete vedere. I dadi arrivano in maniera perfettamente casuale. Modificare i wired sarebbe impossibile senza smontare la stanza. Chiedete pure a qualcuno esperto se non vi fidate. È legale ora il poker su abbo? Mi state chiedendo in molti. La risposta è... Nì. In che senso? Come ben saprete, o almeno spero, è rimasta solo a Dara come staff di abbo.it. E da sola non può essere ovviamente onnipresente. Soprattutto ora che abbo sta aperto anche di notte, 24x7. Lei, infatti, lavora circa dalle 9 del mattino alle 18.30, nei giorni feriali. E poi è la giornata libera sia il sabato che la domenica, nel weekend, insomma. Quindi i giochi d'azzardo sono tornati, con qualche problemino iniziale, ma sono tornati. Fra i vari problemini c'è stato quello che Adara ieri ha bloccato gli scambi a 50 persone circa per una settimana, sfruttando il gruppo abbo del mio poker. Ha bannato il proprietario della stanza per 7 giorni e imposto un blocco trade settimanale appunto a tutti i vari membri. Senza curarsi però, ragazzi, minimamente, se essi fossero effettivamente dei giocatori, o solamente magari degli spettatori interessati, come ad esempio Rework, che non gioca a Dado. Ma era nel gruppo e si è bloccato il blocco scambi. Quindi, ragazzi, fino al giorno 30 la mia stanza avrà i furni bloccati, quindi il poker vero e proprio di cui vi sto appena parlando rievrà al luogo, valutando tutto più o meno dall'1 giugno sera o prima, dipende dagli impegni che avrò. Il Dado però l'abbiamo già riaperto, se vi andasse di fare qualche partita. È curioso però, ragazzi, come Adara abbia bloccato gli scambi solamente ai miei giocatori e non a tutti gli altri proprietari di Dado. Forse perché con il nostro gruppo ha mosso una class action, che c'erano tante persone, o forse semplicemente perché le sto sul cazzo io, o in particolare, quello che penso, è che abbia paura di me. Dato i suoi continui ed odiosi metodi per boicottarmi, arrivando addirittura a censurare il termine YouTube con Bobba alcuni giorni e non permettendo di poterlo comunque scrivere nel motto o nel nome delle stanze. Comunque sia, Adara controlla ogni cosa che diciamo, e se non lo fa, potrebbe comunque farlo. Per questo che mi è venuta un'idea che mi sembra la miglior cosa, per chi sia ovviamente un reale amante del poker o Dado alto che sia, creare un gruppo, dover aggruppare tutti i giocatori, un gruppo ovviamente esterno ad Abbo. Ho così chiesto in un sondaggio su quale social preferiste farlo. E mi avete quasi tutti risposto Telegram, immagino perché molti di voi tengono la riservatezza, e tramite Telegram potrete sfruttare un nickname e non il vostro numero di telefono. Allora, per chi non lo sapesse, Telegram è una piattaforma di messaggistica molto simile a WhatsApp. Anzi, sotto tutti i fusti di vista è migliore di WhatsApp, tranne uno. L'unico aspetto negativo di Telegram è che ha meno persone che lo usano, per il resto ha moltissime funzionalità all'avanguardia, che da mesi WhatsApp sta recopiando palesemente. Ma di particolare Telegram ha quattro specifiche, che mi hanno fatto optare per questa scelta. Moltissimi abbini già hanno Telegram. In fondo ha comunque oltre 100 milioni di downloads. Su Telegram, poi, si può aggiungere persone tramite nickname, quello che vi dicevo prima, e non tramite numero telefonico, quindi la privacy e la riservatezza sono assicurate. Tre. Su Telegram posso creare un canale, una specie di gruppo, dove le persone non vedono gli altri membri, ma solo l'amministratore può comunicare. Comodissimo, pensateci, io ho di gruppi WhatsApp troppo spam, rincoglioniti che cambiano di continuo nome e foto ai gruppi, che scrivono cagate ogni secondo. Con un canale Telegram solo l'amministratore riporterà le informazioni utili. Tutti poi potranno scrivergli in privato e lui, appunto, scriverà l'opinione di ciascuno, in modo compatto, senza litigi, spam, eccetera. Infine, Telegram ha un altro fattore interessante. Ha la versione web. Infatti, una volta scaricata l'app sul vostro telefono, e ovviamente registrati, potrete loggare, ragazzi, tramite PC, anche a cellulare spento, a differenza di WhatsApp Web, che ha bisogno, appunto, del cellulare acceso, collegato in Wi-Fi accanto a voi. Potrete pure disinstallare, una volta che l'avrete messo sul computer, l'app dal cellulare, se vi dà fastidio. Certo, ve lo sconsiglio, perché magari vi fa comodo averla anche sul cellulare, ma la possibilità di farlo è concreta. Ovviamente, ragazzi, ricordatevi di fare come me, però, cioè, aggiungete poi Telegram alla barra dei preferiti, e quando giocate ad Abbo, tenetelo aperto, perché sennò non serve a niente. Infatti, ragazzi, poi comunque in quel canale, avviseremo anche se abbiamo degli sfidanti pronti. E per quanto, tipo, potremmo scrivere sfidante pronto per 50, qualcuno di voi vuole giocare, e viene, capito? Insomma, se volete giocare, sarete immediatamente avvisati. Si spera, dunque, con questo canale, di coinvolgere più persone possibili nel gioco d'azzardo, favorendo, ragazzi, partecipatività per tutti, e al contempo, impossibilitare lo staff nel controllare le nostre chat log, impedendo possibili ban o altri blocchi scambio. Se siete dunque interessati, vi prego, scaricatevi Telegram, veramente questione di 10 secondi, registratevi e scrivetemi. Così vi aggiungerò al canale. Il mio nome Telegram è questo qui, Chioccio Lastina, boh, scritto anche qui. Se volete, invece, unirvi da soli, eccovi qua il link, lo trovate anche in descrizione, assieme anche al mio nickname. E anche in top pagina di social della mia pagina, qualora poi vi riservisse. Unitevi e fate girare il link del canale. E fate girare anche il link di questo video, ragazzi, a tutti i vostri amici. Su questo gruppo vi avviserò anche appena avremo ricostruito il poker, ovviamente. Nel frattempo lo useremo per il dado alto. A tutti coloro che... Abbo è fallito quando ho dato via il poker! Se torna il poker io torno! E poi non è vero un cazzo, ma magari qualcuno è sincero, dai! Quindi mi raccomando, non lo chiedo quasi mai, ma questo video, questo video condividetelo più che potete, a tutti i vostri amici. Se sei un vecchio utente con moltissimi crediti, ma non ti interessa più di giocare ad Abbo, vuoi venderli, puoi contattarmi su Skype, SimoneDerd1, o su Telegram, insomma, quel che ti pare, e ti sarà dato da me una mano nello smistamento. Comunque, con i giochi d'azzardo, ragazzi, purtroppo sono tornati anche tanti, tanti truffatori. E quindi è il momento migliore per spiegarvi come proteggervi dalle truffe al dado slash poker. La cosa fondamentale, se volete giocare o creare un dado alto, è possedere cosa, ragazzi? Indovinate un furno LTD, in particolare deve essere l'arbitro ad averne uno. E voi giocatori, dovete esigere, sentite bene, esigere, direte all'arbitro, appena il non giocare, e sappiate che non c'è minaccia peggiore per un arbitro di vedere questo, dovrete esigere di vedere l'LTD dell'arbitro. Questo perché? Perché al momento del pagamento, che oramai avviene quasi sempre tramite mercatino, o di risparmiare sulle tasse come l'Abbocambio, è anche l'ovvio fattore di velocità, non c'è da cambiare, eccetera, eccetera, per pagare il vincitore, l'arbitro passa in scambio al vincitore un furno da mettere in mercatino. Il vincitore a questo punto lo metterà, ovviamente, al prezzo concordato, che sarà il piatto totale, meno la mancia. Cioè, la mancia non è altro che il 10% della vincita. Ma, insomma, poi dipende anche dalla generosità dei clienti, dalla capacità ed affabilità dell'arbitro. Ma questa è un'altra storia. Insomma, vi darà in scambio a un furno. Voi lo dovrete mettere in mercatino. Una volta che, appunto, il furno sarà stato messo in mercatino, l'arbitro procederà all'acquisto del furno. Fin qui tutto bene, ma, se non usaste un LTD, perché gli LTD sono numerati, quindi non ci sono nessun tipo di fregature, potreste altrimenti incorrere in numerosi problemi e truffe, sia da parte dell'arbitro, sia da parte dello sfidante, che di altre persone in stanza. E l'arbitro stesso potrebbe venire, essere truffato da dei giocatori. Come mai? Immaginatevi che l'arbitro, per pagare, utilizzi uno zerbino viola. Paga un paio di persone con quello, e alla terza volta, uno dei due giocatori precedenti, sapendo qual è il furno che lui usa, mette uno zerbino viola in mercatino allo stesso prezzo che sta inserendo il vincitore dell'altra partita. E tac! Fotte sia l'arbitro che il vincitore. E a questo punto, il giocatore cosa fa? Quello che ha appena vinto la partita dice te non me l'hai comprato e accusa l'arbitro di truffa. È a dovere, in quanto se vuoi arbitrare, ti compri un fottuto LTD o eviti di arbitrare proprio. Anche se poi, in realtà, la truffa l'ha perpetuata un altro utente. Questo è il caso più comune, ma ne esistono altri. L'arbitro potrebbe fingere l'acquisto del suddetto furno, mostrando bene un altro in inventario, in scambia, sostenendo di aver appena comprato il vostro. Con dei furni numerati, questo non può farlo. Un vincitore potrebbe tentare di fregare l'arbitro. Una volta che, ad esempio, il suo furno è stato acquistato, sostenendo che, appunto, altri ne hanno messo una copia al posto suo, insomma, come vi dicevo prima, potrebbe fregarlo. Quindi il risultato di questo è, ragazzi, se sei un arbitro, compra un LTD. Se sei un giocatore, assicurati che l'arbitro possegga un LTD. Altrimenti, non giocate. Ovviamente, ragazzi, molti LTD costano molto e sono sconsigliati, soprattutto per piccoli pagamenti. Difatti, consiglio l'utilizzo di LTD di basso valore. Per esempio, io e il mio arbitro Prince, siamo soliti usare letti di bernazione, ottavoli, arcobaleno e LTD. almeno 100 persone sono state raggirate così. Ad esempio, Vale 655 Ban si è stata fregata da Adrian al dado di Mario Fiero. Quindi, ragazzi, non fate quelli furbi che questo furno l'ho solo io col cazzo che l'hai solo te. Compra un LTD e zitto, coglione! Un altro problema, ragazzi, sono i veri e propri truffatori senza pudore. Spesso bimbi minchi o comunque ragazzi non ancora particolarmente maturi che truffano spesso anche per basse cifre o i più infami attendono di farsi un nome per poi truffare grosse cifre. Angel 92 Questi attendono il match giusto con la puntata massima che si aspetta nel breve termine e truffano ambo i giocatori una volta conclusa la partita. Sinceratesi ovviamente prima che nessuno dei due punti altro. Molto spesso, ragazzi, in truffe di questo genere però uno dei due giocatori è un complice dell'arbitro e non ha mai puntato niente. Difatti, lo si nota spesso ripuntare il piatto e chiedere secca. Queste truffe sono le peggiori. Perché vi starete chiedendo? Perché ripuntando piatto ha molte più chance di vincere e se vincesse sarebbe comunque una truffa ma non dimostrabile perché lui non ha mai puntato quello che sta giocando. Certo, potreste chiedere di vedere quello che ha puntato ma se sono crediti di certo l'arbitro che fa non ve li cambia per mostrarveli. Potrebbe fare uno screen vero ma è facilmente modificabile un numero su una pagina web ispezione le mente e via. Già è diverso se vi giocaste furni. Vi salverebbe dove il collaboratore non si fide effettivamente di passare i suoi furni all'arbitro in quanto sapendo lo truffatore tema anche per i propri gli oggetti tanto che appunto ragazzi spesso dubiterà anche magari della sua percentuale nella truffa quindi ma se arbitro e giocatore sono amici sinceri per loro anche passarsi dei furni non è un problema. Come fare quindi per accorgersene? Purtroppo non si può ci sono solamente alcuni campanelli d'allarme uno di questi è un possibile continuo sussurrio fra loro oppure una mancanza totale di dialogo dovuta magari al fatto che si hanno inchiamato assieme o ancora potrebbero addirittura essere la stessa persona e ciò si capirebbe dal fatto che non parlano mai contemporaneamente dalle puntate secche senza timore dal fatto che spesso poi comunque ragazzi un altro campanello d'allarme è quello della stanza invisibile modo da far sì che meno persone siano testimoni di questa truffa dell'accaduto in modo da appunto non poter accusare di truffa in quanto loro non c'erano e non possono dirlo è la tua parola contro la sua quindi cosa vi consiglio di fare prima di giocare una partita sincerarsi dell'LTD controllare attentamente che arbitri e giocatori non siano la stessa persona si capisce facilmente dai informarsi sull'affidabilità dell'arbitro cosa che purtroppo non è mai facile in quanto se è sempre stato onesto ma sta aspettando il piatto giusto assicurarsi di giocare contro una persona che non sia suo complice o semplicemente giocate da me affidabilità garantita da me e i miei arbitri perché purtroppo di garantire per altri non me la sento ragazzi valutando le forti delusioni avute negli ultimi giorni anzi un altro consiglio vi consiglierei sempre di registrare le partite vi consiglio di usare OBS è gratuito e funziona perfettamente attenzione però anche a chi accusa altri di truffa senza prove supportate volete un esempio? Inky ossia Lapsus mi ha accusato di truffa perché dopo avermi offeso infamato ho piccolato i furni posati nella sua stanza truffi ok altrettanto ha fatto con altre persone solo perché non volevano giocare a dado contro di lui solo per farvi capire ma d'altronde ragazzi cosa vogliamo aspettarci da uno che rimorchia coi crediti che paga l'affitto in hambre che paga le ragazze per vedere loro i piedi in webcam e che per farsi una scopata ricicla le ex di Bellic tipo ora è un mese in Puglia pagandosi l'arbergo per un mese intero nella speranza di ficcarlo ad Arlene la sorella di 12 Elena 12 insomma comunque se devo darti un parere su Inki cioè di faccia sembra un messicano pare un extracomunitario secondo me quando dice di essere del sud intende che è dal Marocco o della Tunisia di quei posti di merda lì riguardo il fattore mentale ho avuto modo di parlarci due o tre volte ma non è in grado di fare un discorso di senso compiuto cioè tu ci parli ma non lo capisci cazzo cioè è ritardato c'è nulla da fare e poi ho capito che vuole farsi tutte le mie ex da quello che ho sentito dire e che è partito dalla Sicilia fino a Milano per incontrarsi con Sogno per Isci il Rap cioè è andato proprio a beccare una delle più sfigate di Abbo di Ocane e niente se si accontenta dell'usato insomma della roba usata dei miei avanzi faccia pure un altro bel soggettone anzi sono Gwen nella sua ragazza rosa che mi hanno accusato di aver loro truffato 16k quando questo non è mai accaduto ma la cosa buffa è da che pulpito viene la predica infine voglio parlarvi di un truffatore che mi ha particolarmente deluso ossia Dennis virgola Dennis che ora gira per l'hotel con i cloni Pasquale S28 e Manu con vari puntini due settimane fa ha truffato Snocchino per 6k usando come scusa che Snocchino avessi truffato in passato altre persone in particolare Tatankete ma la truffa ai danni di Tatankete era di circa 3k per correttezza Dennis avrebbe dovuto rubare solo 3 dei 6k per restituire quei 3 a Tatankete e invece si è preso i 6k ed è sparito per una settimana il bello il bello è che lo sfidante di Snocchino era un complice di Dennis Tonics09 gli è però andata liscia perché Snocchino è un coglione e sta sul cazzo a tutti quindi hanno tutti goduto del fatto che fosse stato truffato fate conto è uno di quelli che fanno tanti grossi poi due giorni fa mi ha scritto che era a Pisa se volevamo vederci appunto Snocchino ma poi si è spaventato a darmi il suo numero o un luogo d'incontro what the fuck che problemi tieni nella testa insomma dopo alcuni giorni Dennis aveva sfidante per un K mi chiede se gli trovo uno sfidante e che si dividerà alla mancia io gli porto uno sfidante la partita si conclude e lui se ne va senza darmi la mia parte insomma poi ieri sera mi giunge voce che stava sparlando di me assieme all'amichetta PsychoEllin di lei non parliamo se la fa con Mota il coglione con 500 cloni che segnala e fa mutare tutto l'hotel è lui Mota alias Infected Machine assieme ai suoi amichetti Down come appunto PsychoEllis insomma poco dopo mi giunge voce che Faun e Uxa stanno giocando pesanti da Dennis insomma stanno giocando alto puntata alta intende e come era ad aspettarsi in base a varie confessioni che Dennis mi ha fatto li ha truffati entrambi usando come scusa il fatto che stessero litigando per una girata di dado salve ragazzi sono Faun vi volevo dire che ieri sera Pasquale Z28 ossia Manu ossia Dennis mi ha truffato in una partita ad o alto stavo giocando contro Uxa e a partita conclusa nel momento del pagamento Dennis è sparito dalla stanza cancellandoci su Abbo e bloccandoci sui vari social e su tutto quindi volevo dire a tutti quanti di fare attenzione che Dennis truffa e di giocare solamente da persone fidate ora eccovi alcuni screen che attestano gli intenti di virgola Dennis e una confessione vocale dello stesso da me è storta questa mattina stessa io ho capito che avevano litigato perché in pratica non avevano reciso se era secco dado una roba sì 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 loro mentre litigavano cose io ho chiuso tutto mi sono andato 6k se uno vinceva io mi meritavo pure 800 1k di mancia quindi bello che loro hanno litigato hanno detto mi lasciamolo stesso la mancia Tommaso mi lasciava 0 e Faun mi lasciava 200 allora ho detto ah sì voi fate così c'è dei bambini c'è dei morscusi e allora mi meritate una bella truffa e le ho truffate a tutti ora lui non ha truffato me quindi non vado pesante con lui ma avrei pure il suo numero di casa mi accontento di smerdarlo qui e assicurarmi che nessuno giochi più da lui attenzione ragazzi come avete letto mi ha confessato anche di avere tantissimi cloni fra cui alcuni account che sembrano reali e con i quali gioca in mezzo a noi e con i quali vuole in qualche modo truffare tutti quindi vi ripeto attenzione giocate solo da persone che siate sicuri siano chi dicono di essere avete il loro Skype ci avete mai parlato a voce avete il loro numero ecco ricordate se una persona onesta ragazzi è anche trasparente io e Prince di fatti invitiamo sempre tutti in chiamata Skype con noi e li aggiungiamo su Whatsapp se vogliono senza alcun problema se hanno dubbi diamo loro pure il nostro Facebook in fondo ragazzi la privacy nel 2017 non esiste chi si scela è perché ha qualcosa da nascondere per esempio in caso di truffa non vuole che nessuno possa vendicarsi quindi per il 100% di sicurezza giocate da me da me e Prince per info su come giocare mi potete iscrivere su Telegram Skype Whatsapp fate voi ma vi pregherei di scaricarvi Telegram fate questo piccolo sforzo ed unitevi al canale ripeto link in descrizione o scrivete a me che vi aggiungo quiz del giorno chi ha truffato 6k qualche giorno fa e 7k ieri sera a Ux e Faun scrivetelo qua sotto nei commenti va bene insomma comunque uno dei suoi tre account non me li dovete dire tutti e tre seguito dal vostro nickname per vincere lasciate anche un bel like grazie della visione se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e condividilo sui social qua a sinistra trovate il mio ultimo video correte a vederlo se ve lo siete perso in alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale infine ecco qua i social sui quali potete seguirmi trovate il loro link qua sotto in descrizione grazie della visione grazie a tutti